ciao a tutti sono la vostra morena se volete essere aggiornati sui nostri video seguite il nostro canale e attivate la campanella qui sotto amici di gd ferro team buongiorno a tutti come vedete anche oggi sono qui in presenza di selma molto bella come vedete è anche tra l'altro molto alta giusto selma quanto alta sei e oggi ci sarà da divertirci quindi selma oggi venuta qui per fare il casting della nostra agenzia quindi prossimamente come tutte le altre ragazze che so che non voi ascoltatori siete sempre presenti la vedrete proprio in diretta mentre farà delle cose quindi un vero e proprio shooting fotografico però io andrei già a conoscerlo un pochino selma vuoi dire ai nostri ascoltatori quanti anni hai cosa fai nella vita allora ho 19 anni però adesso sono un'impegata perfetto è molto sintetica ma ci piace così e non so hai qualche magari obiettivo tra qualche mese non so qualche nuova iniziativa che vorresti prendere signora vari obiettivi di raggiungere di raggiungere entro la fine dell'anno cioè andare a vivere da sola che è proprio il punto proprio prima della lista e soprattutto andare in giro soprattutto arrivare a un punto della della mia carriera di modello abbastanza importante vorrei iniziare a fare le sfidate abbastanza importanti diciamo che tutte le caratteristiche le hai e non so hai mai fatto magari qualche altro shooting fotografa qualche esperienza nella moda sicuramente ce l'hai perché ti conosco magari se vuoi dire qualcosa che magari ti ha dato più soddisfazione in questo campo qui per adesso intendo sì sì ad esempio l'anno scorso ho fatto vari shooting fotografici per una marca di occhiali anche abbastanza importante e ho anche fatto nello stesso periodo la modella per un emergente disegnatore di scarpe del Veneto e mi è piaciuto molto farlo vorresti comunque continuare su questa via o vorresti anche magari iniziare a guardarti un po altrove no vorrei mi piacerebbe continuare questa via mi piacerebbe sì ma allo stesso tempo vorrei anche trovarmi un altro lavoro certo è sempre giusto così insomma perfetto allora selma penso che comunque i nostri ascoltatori si siano già fatti in idea di te io non vado a sforerare nient'altro perché voglio che proprio si gustino bene lo shooting che faremo tra poco quindi ragazzi rimanete sintonizzati con il nostro canale youtube e a tra poco con selma ciao 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 No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.